tutto iniziò nel lontano 2003 perché per la prima volta non esattamente in questa formazione ma quasi circa abbiamo debuttato come oblivion sul palco del 12 con ho rubato un motivo è vero ma dobbiamo anche dire che il nostro promessi sposi in dieci minuti invece con la formazione che vedete qui è andato in scena per la prima volta proprio su questo palco di prime volte qua al duse altre che volete condividere da bologna magari galleria sai a volte accade nella nostra preistoria ovviamente svolgevamo tutta una serie di mansioni collaterali a quelle artistiche senza alcuna qualifica fra quelle c'era tentare di risparmiare sullo staff cosa che ancora cerchiamo no no e e quindi quella volta proprio nel 2008 venimmo qua a fare tutta una serie di di nostri sketch fra cui c'era quel i promessi sposi in dieci minuti che vide qui la luce per la prima volta e quindi cosa si fa per andare veloce si dà una mano e era gli aiuti su piazza volete degli noi siamo noi andiamo davanti proprio nelle corde cominciamo a tirare noi senza nessuna tecnica e nessuna capacità quindi lo stangone ricomincia a scendere con il suo peso e noi cominciamo a salire sulle corde in quest'ordine calabrese per primo a due metri d'altezza però eravamo dotati di tutte le forniture consone alla legge 626 sulla sicurezza del lavoro avevamo i caschetti il casco giallo e eravamo i village people del duse appesi alle funi del duse noi siamo tornati qui al duse felici di tornare con oblivion rhapsody che effetto ci fa ci fa un effetto in qualche modo di di egin come effetto anti aging e beh sì un effetto anti aging perché proprio qui oblivion rhapsody è nato anzi proprio in questa stanza e oggi finalmente dopo tanto tanto tempo riusciamo a chiudere proprio laddove abbiamo cominciato è uno spettacolo fatto di una buona parte del nostro repertorio che noi rimettiamo in scena in un modo un po più unplugged dove praticamente è tutto fatto dal vivo da parte lorenzo che l'unico chitarrista vero ecco noi abbiamo deciso di mettere in scena tutto quello che non sappiamo fare pubblico del duse quale bisogna capire quale quello del 2003 quello del 2008 quello del 2020 sono diverse annate la 2012 era barricata c'è stata una ghiacciata ad aprile no è bellissimo a parte che è questa cosa verticale un teatro verticalissimo e quindi ti schiaccia ti sovrasta ti senti l'abbraccio del pubblico siamo veramente felici di essere qua tutte le volte un'ovazione e poi questa è una replica particolare e raggiungiamo un traguardo abbastanza bello ma anche terrificante che è quello delle mille repliche cioè è il duse a questo primato ha visto la replica 1 e la replica 1000 degli oblivion e quindi dopo aver fatto un giro enorme ritorniamo al punto di partenza grazie a tutti grazie a tutti